The 33, il commuovente film sulla vera storia dei 33 minatori intrappolati in una miniera. La preoccupazione dei familiari e la tensione del mondo intero sono alla base del dramma, ma di fronte al rischio di cedere allo sconforto è la fede che garantisce ai minatori cileni la speranza e la forza per resistere più di due mesi. Di Francesco Marini Un gruppo di minatori, salutati i familiari, sale sul pulmino che li porterà in fondo alla miniera. La luce del sole scompare ben presto. Il pulmino scende lungo uno stretto sentiero che si avvita a spirale e sembra non terminare mai. Ogni tanto, ai bordi, si vedono degli altarini improvvisati che ricordano, con una fotografia, coloro che non sono più tornati a casa. Uno dei minatori sul pulmino, alla sua prima esperienza, ha il respiro affannoso, si sente soffocare. Con questa sequenza molto coinvolgente, inizia la storia dei 33 minatori di San José e del loro incidente. Nel 2015, il premio Pulitzer Hector Tobar l'aveva raccontata nel suo libro Deep Down Dark. Nello stesso anno, il libro viene sceneggiato e diventa questo film, diretto dalla regista messicana Patricia Regan. Il racconto è fedele alle testimonianze dei superstiti. Il montaggio, alternando quanto sta succedendo sottoterra e quanto accade in superficie, riesce a far percepire al pubblico i risvolti e le dinamiche di quella vicenda. Da una parte i lavoratori che si trovano sepolti vivi, a 700 metri di profondità, con circa 40 gradi di temperatura e cibo sufficiente solo per alcuni giorni. Sulla superficie, le donne e i minatori che tentano di discutere con i gestori della miniera per tentare di salvare i loro mariti, figli, padri. Di fronte a una vicenda così dolorosa, che cresce giorno per giorno nell'evidenza dell'opinione pubblica e all'incapacità della società mineraria di affrontare la situazione, è il governo che si trova a dover decidere da farsi. Che soluzione tecnica adottare? Di quali collaborazioni internazionali avvalersi per tentare l'impossibile? E quale immagine del Cile proporre sulla scena internazionale? Su entrambi i livelli nei quali si svolge la storia, c'è un protagonista a fungere da leader. Mario Sepulveda, interpretato da Antonio Banderas, che mantiene viva la speranza lì dove non sembra esserci nessuna possibilità di sopravvivenza, e Maria Segovia, interpretata da Juliette Binoche, che guida le mogli dei lavoratori nel richiedere all'azienda di tentare il salvataggio. Determinante è anche il giovane ministro delle miniere, Lawrence Goldborn, che si prende a cura il dramma di questi minatori che non conosce, ma che fa tutto quello che è in suo potere per estrarli vivi dal sottosuolo. La pellicola riesce ad esprimere importanti valori umani e religiosi. La povertà esteriore dei minatori, che contrasta con la loro ricchezza interiore, la capacità di condividere e di sacrificarsi per il benessere di tutto il gruppo, il battersi per la giustizia, incarnato dalle mogli dei minatori. Ma forse la grande verità, che da un punto di vista umano, il film riesce ad esprimere, è la dimostrazione che si ottengono veramente dei risultati solo quando si mette in gioco tutti se stessi. Il team di superficie, capeggiato dal texano Greg Hall, titolare della Driller's Supply International, e dal giovane ministro delle miniere, riesce con tenacia e intelligenza nell'intento prodigioso di individuare il punto dove si erano rifugiati i minatori, anche se le ritrivelle si rompono continuamente e le mappe a disposizione sono imprecise. La fede cristiana, che ha sempre alimentato la speranza dei minatori e ha dato loro la forza di resistere per due lunghissimi mesi, viene sottolineata nel film. Si veda come all'interno dei tunnel i lavoratori abbiano sempre pregato insieme. Ma quello che accadde in realtà fu ancora più intenso. Greg Hall, diacono della comunità cattolica di Cyprus, ha sempre pregato per l'esito delle operazioni e tutti i minatori di fede cattolica ricevettero, attraverso quella fessura nella roccia che ha costituito per lungo tempo l'unica via di comunicazione con la superficie, 33 rosari inviati personalmente dal Papa. L'esito finale della vicenda non fu dei migliori. I titoli di coda rivelano come l'azienda sia stata assolta dall'accusa di negligenza colpevole e agli operai e alle loro famiglie non venne riconosciuto alcun indennizzo. Per vedere il trailer del film e per leggere le schede dei migliori film visita il sito filmgarantiti.it